Consiglio comunale con strascico di polemiche ieri a Barletta, dove una parte della maggioranza di governo diserta l'aula al momento di discutere della Barsa e fa mancare i numeri anche sui debiti fuori bilancio, aprendo di fatto la prima crisi ufficiale della seconda amministrazione Cannito. Lo scontro per misi latenti all'interno della maggioranza è esploso ieri pomeriggio quando senza alcuna comunicazione, i quattro consiglieri di Fratelli d'Italia, i tre di Barletta al centro ed il consigliere Fiorella hanno deciso di non partecipare più ai lavori dell'Assemblea. Un comportamento stigmatizzato questa mattina con una nota ufficiale dalle segreterie cittadine e dai capigruppo di Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Lista Mino Cannito Sindaco, ovvero le forze politiche di maggioranza che ieri sono rimaste in aula. Per i firmatari della nota si è compiuto un atto di arroganza e violenza politica che ha danneggiato la città e che richiede subito una verifica interna alla coalizione, un confronto preannunciato in consiglio dallo stesso sindaco Cannito. Io prima di tutto vi chiedo scusa per la mancanza dei consiglieri comunali di maggioranza e quindi c'è tutta una valutazione politica da fare che spetta alla maggioranza. Chiusa la discussione sulla Barsa, Cannito ha pregato tutti i consiglieri di partecipare alla votazione sui debiti fuori bilancio per onorare i pagamenti ai cittadini e non provocare danni al Comune. Perché ove questi debiti fuori bilancio non fossero approvati stasera, danneggeremo l'ente perché dovrebbe pagare degli interessi che manderebbe in sofferenza il Comune di Barletta. Quindi io vi chiedo di rimanere, ringraziandovi in anticipo, di rilevare come questi debiti riguardano comunque cittadini o fornitori che da tempo attendono il giusto risturo o per un servizio reso o per un danno ricevuto. Ma all'appello del sindaco hanno risposto solo le opposizioni. I banchi della maggioranza sono rimasti simi deserti e il quorum di presenze necessario per l'approvazione dei debiti calendarizzati non è stato raggiunto. Insomma, un consiglio comunale da dimenticare se non fosse per la deliberazione favorevole al progetto di raddoppio della tratta ferroviaria Andrea Barletta ai soli fini urbanistici. Maggioranza ed opposizione hanno dato via libera alla variante al piano regolatore e alla posizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio per consentire la prosecuzione dei lavori che da cronoprogramma termineranno nel 2026.